eccoci ciao luca ciao come stai bene bene dai benone tu tutto bene dai sono a casa come tutti a casa sì sì certo e noi appunto adesso con mare stiamo facendo questo progetto di chiacchiere in quarantena quindi sentiamo vogliamo videochiamare un po come tutti adesso visto che vanno molto queste videochiamate vogliamo sentire vicini non solo le persone che vivono mare ma anche chi come te per esempio ci è venuto a suonare quindi gli artisti che sono passati da mare e poi vabbè anche gli amici insomma come nel mio caso sei nella tua cameretta sì 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 sono qua sono appoggiato su una conga eccola e poi no sì ho un sacco di strumenti praticamente ho usato un armadio l'ho fatto diventare un deposito per chitarre perché non sapevo più vedere bene mamma mia di tutto c'è no sì ho messo i miei vestiti da tutt'altra parte infatti però sì sono qua in cameretta e quindi di ai tutti i tuoi strumenti sì adesso poi tra l'altro mi deve arrivare un po' di materiale per metter giù uno studietto un po' fatto diciamo così molto rapidamente così riesco a lavorare un po' adesso soprattutto in questo periodo di quarantena mi è venuto capito la voglia di avere un po' uno spazio ancora più mio dove un po' lavorare alle mie cose esatto io questo volevo capire cioè in questi giorni stai stai scrivendo le tue canzoni hai scritto qualcosa di nuovo stai lavorando le cose vecchie che usciranno guarda in realtà ne parlavo anche con degli amici è un periodo un po' strano perché da una parte hai un sacco di tempo dall'altra finisci spesso impiegarlo male cioè impiegarlo a non renderlo produttivo diciamo che le prime settimane sono state cose così per me già adesso comincio un po di più a a gestirlo meglio sì sto sto scrivendo qualcosa però non direi che sono dei giorni di grandissima ispirazione poi però vediamo comunque sto un po riprendendo dei brani vecchi che ormai ho scritto un po di anni fa e vediamo cosa se ne esce fuori qualcosa di carino ma in questo periodo tu visto che appunto sei uscito con l'ultimo pezzo San Siro che immagino d'avessi avevi in programma non so dei concerti del che tra l'altro appunto l'ultimo pezzo si chiama San Siro quindi è molto affine a noi dicevo avevi in programma cioè cos'è che hai perso con questa situazione hai perso delle occasioni per di lavoro di promozione di concerti raccontami un po allora sì sicuramente sono molto molto dispiaciuto perché era da più o meno dall'inizio del da settembre che mi ero messo proprio lì siccome non sono con un'etichetta per ora e non ho nessuno che gestisce al posto mio la questione di promozionale di suonare in giro mi ero messo lì molto con molto rigore a cercare posti in cui suonare che è una cosa molto frustrante in un certo senso quando non hai ancora magari un nome grosso un po perché tante volte non sei cagato tante volte non ricevi risposta però ero riuscito tra ganci a mettere insieme un po' di un po' di date era un tour di almeno 8 o 9 date ah quindi avevi un tour sì 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 è solo che si è stoppato metà ho fatto le prime quattro e proprio prima di una data a milano tra l'altro al rock e tali nolum che è una serata molto di solito anche molto partecipata è chiuso tutto e niente per cui sono riuscito a venire a mare perché sono venuto ad ottobre a suonare però sì e come 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 stai vivendo questo stop del tour cioè recupererai hai già sentito qualcuno guarda allora in realtà non ho sentito tanto i locali con cui è alla fine saltato perché boh immagino anche che non sia il loro primo pensiero ora per cui non voglio neanche diciamo stare addosso in un certo senso la cosa che a me un po' proprio mi manca è il fatto al di là poi di suonare dal vivo che mi manca un sacco ovviamente perché con quel tour bene o male una volta o due al mese suonavo per cui avevo tutto fino all'estate ero tutto bello tranquillo organizzato no mi manca anche provare andare in studio andare a suonare con i miei ragazzi con cui che mi accompagnano un po' dal vivo fare cose arrangiare pezzi e cioè a un lato positivo perché sono qua in casa posso fare uno studio molto più concentrato su di me però nell'insieme poi l'aspetto di compagnia mi manca un sacco ed è un pezzo cioè sono molto dispiaciuto per questo è certo ma quindi adesso farai cioè studierai diciamo e lavorerai su di te proprio a livello musicale nel senso che ti metterai a suonare canterai cosa cosa farai sto cioè in quest'anno mi sono davvero preso benissimo col mondo e diciamo a te che penso che piaccia anche a te il mondo afro cubano delle percussioni no sud americano in generale per cui sto studiando anche un po' di queste cose come si può ci sono molti portali online in cui diciamo ci sono a disposizione tanti esercizi poi ho preso delle lezioni all'inizio dell'anno ma poi anche lì con la quarantena si sono stoppate per cui da un lato mi sto molto sto molto diciamo esplorando questo questo spazio questo mondo musicale che è diciamo si pensa sia una cosa molto semplice sai la percussione la possono suonare tutti basta che la colpisci e suona ma poi in realtà è un mondo davvero ampio davvero bello davvero popolare davvero incredibile da un lato quindi questo diciamo a livello tecnico e poi ovviamente suonando anche la chitarra mettendomi anche un po' a a esercitarmi anche in modo più più schematico un po' la parte diciamo cantautoriale mia e cercare un po' di soluzioni un po' di nuovi nuovi melodie nuovi accordi nuovi giri eccetera e tua mamma come la vive questa tua passione percussioni allora mia mamma e mio fratello quindi voi tre siete e loro che la vivono questa diciamo che siamo venuti a siamo scesi a dei patti nel senso che in certi orari è proprio non si può cioè anche perché sono sceso a dei patti con loro ma anche con la vicina di casa sotto che quando ho fatto un live per arci l'impegno un posto bellissimo qua in zona e avevo suonato le conga abbastanza per quasi 20 minuti e diciamo aveva bussato con la con la scopa e ho capito che forse certi orari era meglio era meglio tenerli silenziali sì però dai la vivono bene poi mi dicono sempre che sono la persona più rumorosa che conoscono però e vabbè studiando questi strumenti d'altronde non si può far di meno senti ma hai paura di questa cosa che sta succedendo di di hai paura per te per tua mamma per non so guarda all'inizio ero un po ero un po preoccupato per due cose più che per me uno per mia sorella che è incinta per cui ero diciamo un po preoccupato in generale un po per mia madre che lavora in farmacia e all'inizio diciamo i prime settimane quando non ancora si capiva bene come muoversi come gestire diciamo loro non erano molto tutelati secondo me sotto questo punto di vista per cui all'inizio ero un po preoccupato per lei soprattutto poi diciamo che adesso comunque hanno giù la sala cinesca riescono ad essere molto attenti anche a queste cose non è tanto una paura sì non lo so forse mi spaventa più il dopo più che il momento adesso che mi fa strano mi dispiace molto del momento attuale mi dispiace d'altra parte non è una paura però un po un timore di dire chissà dopo cosa succederà chissà come sarà tutto chissà come cambieranno le cose non so se sia una paura è una anche curiosità in un certo senso come te lo immagini questo futuro non so sicuramente poi io che sono uno che piace uscire la sera andare ai concerti quindi mi dispiacerebbe banalmente anche che luoghi come mare come tanti altri possono risentirne magari a livello anche banalmente economico e anche di affluenza diciamo e penso che sicuramente sarò il primo proprio a scendere in campo in un certo senso ad andare sempre per poter tornare un po' a essere fare le cose insieme contenti non so un po' al timore forse che ci si ci si cioè ci si tiri un po' tutti un po' indietro nel senso che magari sia si sia un po' più fin troppo anche attenti a cioè non voglio dire che non sia giusto dopo una storia dopo una situazione del genere però insomma spero che comunque si possa tornare ad avere una una condivisione quotidiana anche vicina in un certo senso non so se si capisce certo ma invece ti faccio un'ultima domanda un po' più curiosa così ma se ti avessero detto non so a febbraio guarda luca tu a marzo starai chiuso in casa non si sa per quanto tempo non potrai uscire di casa ok però puoi non so scegliere dove stare scegliere con chi stare scegliere dove andare cosa avresti fatto avresti cambiato qualcosa saresti stato lì coi tuoi con la tua famiglia cosa o avresti comprato qualcosa tipo io magari avrei fatto più scorta di vino tipo no per non farla dopo certo non so tu cosa cosa avresti fatto io forse sarei andato al mare come? farti la quarantena al mare sì perché poi tra l'altro dovevo andare tipo sarei dovuto partire per stare via una settimana tipo due giorni dopo il lockdown totale quando non si poteva neanche uscire dall'Italia dalla Lombardia scusami forse questa è un po' la cosa che mi rimpiango essere al mare ma perché vabbè io poi ho un rapporto particolare con il mare magari anche con la mia famiglia capito cioè sono contento di essere con loro perché è bello anche vedere come si sta insieme di solito non sono mai in casa per cui anche insieme avete riscoperto di star bene sì 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 poi vabbè ovvio ci sono situazioni un po' tese un po' classiche da famiglia però ad esempio anche con mio fratello mia mamma stiamo guardando un sacco di film maratone ma proprio sì e me li guardate sì 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 poi mia mamma ogni tanto alcuni si scava va a dormire perché non ne può più però io e mio fratello siamo belli più grande di te mio fratello sì ha quattro anni in più di me adesso siamo al sesto di star wars per cui siamo proprio nel mezzo della situa proprio ma lo state guardando in ordine cronologico cronologico abbiamo pure messo pensa roguan roguan mi raccomando yes tra la prima cioè tra la seconda trilogia e la prima trilogia solo e roguan esatto grande anche noi comunque bomba bellissimo bellissimo sì 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 stupenda va bene luca grazie mille del tuo tempo e spero di vederti presto e soprattutto di venirti ad ascoltare presto magari a mare dai speriamo davvero grazie grazie ciao un bacio ciao 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 ciao